Ciao a tutti! Oggi ci troviamo tutti insieme qua raccolti per un video tag ideato da me. Questo video tag si svolgerà in due parti. La prima parte leggerò le domande e le domande alla quale passerò, diciamo, dovrò subire una penitenza e la penitenza la sceglierete voi sotto i miei commenti. Quindi iniziamo subito con il taggare Simone, Luke, guerriera e non era una bimba indaco. Quindi avete capito tutto? Io adesso leggerò le domande e andiamo a rispondere. Poi nei commenti voi, come si dice, voi taggati, voi in generale, mi dovete dire quale penitenza dovrò andare a fare e le persone che sono state taggate dovranno fare un altro video, come farò io, e faremo le penitenze e le mie penitenze saranno le vostre penitenze. Iniziamo subito. Il tag si chiama, hai mai con penitenza? La prima domanda è, hai mai offerto da bere a tutto il bar? No, mi sono bevuta a tutto il bar. Nuotato insieme i delfini? No, perché non nuoto. Ho visto qualche volta i delfini quando sono andata in Sardegna, in Calabria, ma nuotare insieme i delfini anche no. Nudo a fare il bagno? Sì. Hai mai visto l'alba? Sì. Dormito sotto le stelle? Sì. Fumato erba? Sì. Riso quando non dovevi? Sì. È uno dei miei tanti problemi, perché a me quando scappa da ridere è come quando scappa di fare la pipì. E devo ridere e devo far pipì. Anche quando cado io, non solo quando cadi vano. Io rito, a me via da ridere. Che devo fare? Ti sei mai finto malato? Sì. Sì, sì, sì. Invitato uno sconosciuto a casa? Ma anche no. Io non invito neanche la gente che conosco da anni, figuriamoci se invito i sconosciuti. Fotocopiato il culo in ufficio? Fotocopiai il mio culo a scuola, non in ufficio. Bagno romantico con candele? Non mi pare. Ivano? Segnalo. Ballato come una matta? Sempre. Sempre. Hai mai tradito? Mi? Ballato con estranei? No. Però quando andavo a ballare, insomma, calcolando che la pista era mia, perché io ballo, ballo, ballo. E quindi ballato con estranei? Sì. Pianto per amore? Sì. Chi è che non ha mai pianto per amore? Perché sembra un problema insommontabile a qualsiasi età. E poi ti rendi conto che probabilmente non era l'amore, perché l'amore non fa piangere, l'amore fa solo gioire. Hai mai fatto il vento in un ristorante? Alla vento vuol dire magnà e nassene cascusa dei fumaggi. A chietto macchina? Sì, la voglia. Sesso sotto la pioggia? Allora, qui io opto per la penitenza, perché se no Ivano mi chiede cocchi, quindi io mi paro il culo. Penitenza. Rotto una finestra? No. Io personalmente no. La feci rompere a mia sorella, perché mi ha messo Bebimia. Ve la ricordate? Bebimia? Quella bambola che parlava H24, mia sorella me l'ha pozzata nell'acqua. Eramo piccole. Io gli diedi una spinta e lei ha rotto la finestra del bagno. Innamorata senza essere ricambiata? Sì, quell'amore così da piccolina, no? Che ami tutti ma non ami nessuno. Io ho un diario segreto che scrivo dal 96 e ogni pagina era un nome diverso. Innamorata vera e propria? No, però una fiamma proprio, una fiala di fuoco, come si dice. Pianto tutta la notte? Sì. Hai fatto un film? Mentali. Io tutti i giorni mi faccio i film mentali. Però ho fatto nel senso che ho partecipato io come comparsa o come addirittura attrice? No, anche no. Rovinato una festa? Credo di no. Sesso in ufficio? Anche questa opto per la penitenza, onde evitare poi domande. guidato una moto? Ni, perché io non ho la patente, quindi diciamo ni. Guidato un trattore? Sì, perché papà mio aveva la campagna da piccolina e quindi guidato, insomma, tenevo il manubrio perché ovviamente non arrivava ai pedali e non c'erivo neanche adesso, figuriamoci quando avevo 5 anni. Hai mai fatto l'autostop? Assolutamente no, perché io non mi fido neanche della mia ombra e non salire mai. con persone che non so neanche il codice fiscale, quindi autostop? No. Sesso in treno? No. Mangiate insetti? Beh, purtroppo sì, perché mio padre appunto c'è la campagna, quindi mi porta l'insalata, tutte le cose buone dell'orto, ma ogni tanto non le lavo bene, quindi ogni tanto trovo una falena, una macchella, qualcosa. Qualcosa cosa. Vomitato il luogo pubblico? Credo di sì. Bucato le ruote di una macchina, ho graffiato la carrozzeria. Allora no, perché se io ho un problema con te me la riprendo con te e non con la tua macchina, quindi no, non ho mai fatto una cosa del genere. Se a me è stato in un sexy shop? Sì, il più clamoroso fu a Londra, che io non spicci una parola di italiano, figuriamoci l'inglese, e non so che cazzo diceva quello, io continuavo a ridere e è stata la cosa più divertente. Pazzia per amore? Pazzia per amore sì, regà, tutti i giorni. Sono porto in mano da dieci anni, questa è una chiamata pazzia per amore, mi sono sposata per amore, non è una pazzia? È una pazzia, regà. Ad oggi, nel 2020, essere sposata da dieci anni è una pazzia, perché ad oggi, ieri forse meno, però ad oggi c'è un problema, c'è il divorzio. Invece no, perché se si sposa, io promisi amore davanti a Dio, e quindi è normale che, no, si porta avanti è brutto, però nel senso è un impegno grande, c'è una casa insieme, una figlia insieme, e quindi se si decide di fare questo passo importante, indipendentemente se è in chiesa, un comune, o anche accompagnati, insomma, bisogna ponderare bene la situazione. Certo, ci sono anche casi che l'unica soluzione è il divorzio, io sono pro il divorzio, non sono assolutamente contro, però magari delle volte bisogna venirsi incontro, perché ci sono cose che poi non si può tornare indietro, e quindi pensare bene quando si fa qualsiasi cosa, anche perché la vita è una, e quindi non facciamo cazzate, al quale non possiamo tornare indietro. Fumato Narghilè, sì, lo feci fumare anche a mio padre, a mia madre, stavamo al mare, abbiamo comprato Narghilè, tipo c'erano delle bancarelle, e abbiamo fumato tutti insieme il Narghilè, e poi vabbè, ci sono anche dei locali carini a Roma, a Trastevere, a Lungotevere, non mi ricordo bene, che si fuma il Narghilè, è molto molto carino, tutti i seduti per terra, le cuscine, è una cosa fantastica. Allora, il mio tag è finito, quindi io non mi ricordo quante ne ho passate, comunque vabbè, devo fare quelle penitenze che io ho passato, scrivetemi nei commenti che penitenze volete che io faccio, e poi non so se faccio estrazione, ora vediamo un secondo. E le persone che sono state taggate, attualmente devono rispondere a queste domande. Poi, una volta che io ho le penitenze, rifarò il tag, solo con le penitenze, e voi rifarete tutte le penitenze. È chiaro? Ciao morì!